Hai aspettato una reazione così veloce da Napoli dopo il 2-2 di Haaland? Qual è la tua speranza per il secondo match in Naples? Non si aspettava il 3-2 dopo 30 secondi dopo l'equalizer, ma è il futbolismo. Vogliamo andare per il terzo gol. Abbiamo avuto il terzo dal Napoli nella prima azione, quindi è molto disappointante. Possiamo vedere oggi che abbiamo molti potenziali, molti opportuni per vincere contro Neapoli. Siamo sentiti positivi, per sicuramente è disappointante per noi. Siamo in un mood positivo e molta coraggio nel gioco in Napoli. Il più grande Napoli o il Liverpool, in tua esperienza? Sono due squadre del mondo, quindi credo che sono a un livello al momento. Grazie Max.